Ben trovati l'informazione di TRMH24, in apertura alla cronaca parla il reo confesso dell'omicidio di Nicola Di Rienzo, ucciso con 5 colpi di pistola a Foggia da un minorenne, avrebbe dichiarato voleva che rubassi per lui. Ascoltate. Si difende dopo essersi presentato volontariamente in questura il minorenne che avrebbe sparato 5 colpi di pistola ieri sera a Foggia, uccidendo il 21enne Nicola Di Rienzo. Voleva che rubassi per lui, altrimenti avrebbe dovuto dare 500 euro al mese. Sono le parole del 17enne che ieri sera ha confessato di aver ucciso proprio Nicola Di Rienzo con 5 colpi di pistola. Secondo quanto ricostruito dallo stesso 17enne incensurato, ieri pomeriggio ha accettato di incontrare Nicola con precedenti per furto, dopo ripetuti rifiuti. Il 17enne temeva che Di Rienzo la coltellasse e per questo si è presentato all'appuntamento armato con una pistola che a suo dire avrebbe trovato in una campagna qualche settimana fa. I toni durante l'incontro si sarebbero accesi. A quel punto il 17enne, come da lui stesso ricostruito, gli avrebbe mostrato la pistola solo per intimorirlo. Di Rienzo però avrebbe tentato di toglierla, annennato un inseguimento per un centinaio di metri durante il quale il 17enne è esploso i colpi di pistola ferendo a morte il 21enne. In un primo momento si era parlato di una pista passionale, poi però il 17enne ha detto alla PM la sua versione dei fatti. Di Rienzo avrebbe voluto che rubasse per lui e che gli consegnasse i proventi del furto. Stando alla deposizione del 17enne, la vittima avrebbe più volte minacciato sia lui che la sua famiglia. Le richieste di denaro sarebbero diventate più insistenti soprattutto negli ultimi giorni. Il 17enne, dopo aver sparato colpendo la vittima al torace e alla schiena, è salito in sella al suo scooter e si è recato in questura per costituirsi. Cambiamo argomento. È prevista in Basilicata per domani una nuova riunione del Consiglio regionale. potrebbe essere la prima seduta e l'assise di nuovo al completo dopo l'inchiesta sulla sanità lucana. Dopo l'ultima riunione del 29 settembre scorso, potrebbero tornare a sedere in Consiglio regionale di Basilicata sia Rocco Leone che Francesco Piro. È infatti attesa la decisione del GIP del Tribunale di Potenza, Antonello Amodeo, sulla richiesta di revoca delle misure cautelari ancora applicate nei confronti dei due consiglieri di maggioranza coinvolti nell'inchiesta sulla sanità. Dopo che il riesame ha motivato la decisione di attenuazione che aveva rimesso in libertà l'ex sindaca di Lago Negro Maria Di Lascio e dall'annullamento delle misure nei confronti del dimissionario assessore all'agricoltura Franco Cupparo e del DG del San Carlo Giuseppe Spera, si è in attesa di conoscere l'esito del ricorso presentato dai legali di Piro e Leone sulla revoca del divieto di dimora a Potenza per Leone e dell'obbligo di dimora a Lago Negro per Piro che gli impediscono di partecipare alle sedute dell'assise regionale. Se come si augurano le parti coinvolte dal Tribunale del Capoluogo di Regione Lucano dovessero essere accolte le richieste, allora il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, potrebbe tornare ad avere i numeri in maggioranza. Infatti, fino a ieri, ad eccezione del caso di sostegno esterno che è arrivato dai due renziani Luca Braia e Mario Polese, la maggioranza consigliare di centrodestra aveva a disposizione solo 9 voti sui 11 necessari per poter approvare le delibere. Dunque, la politica regionale resta ancora appesa al filone giudiziario anche se l'inchiesta della DG a Lucana è stata fortemente ridimensionata dalle decisioni del Tribunale del Riesame. È sempre in Basilicata questa mattina un dibattito sulle aree interne nel comune di Aliano organizzato dalla CISL. Il presente e il futuro delle aree interne, le buone pratiche tra risorse e problematiche da risolvere. Se ne è discusso in un convegno promosso dalla CISL Basilicata che ha messo insieme gli stakeholder territoriali, università, enti locali, imprese e parti sociali. Il convegno è stato organizzato ad Aliano, una location importante da un punto di vista simbolico e non solo. Ma proprio qui dal 2011 al 2015 è nata la strategia nazionale delle aree interne all'interno del festival di paesologia La Luna e i Calanchi quando allora era ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. E quindi da lì questo progetto pilota che abbraccia tutta la montagna materana, compreso la nostra comunità. La Basilicata per il 96% è area interna, quindi è una regione delle aree interne. Bisogna dare una nuova possibilità di vita in queste zone, tenendo conto che ci sono i pro e i contro. I pro sono la distanza dai centri, c'è tutta la serie della sanità e via di cento, ma ci sono anche i pro, c'è il paesaggio, il benessere di vita, le relazioni personali tra le persone. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare. Se veramente vogliamo far rinascere queste zone, perché altrimenti noi da qui a qualche anno parleremo di tutt'altro. L'epoca pandemica ci ha insegnato tante cose. Tra le tante cose che ci ha insegnato, quello di ricostruire sicuramente una comunità che possa essere più coesa, più unita e che soprattutto ha ritrovato anche un proprio io. I borghi sono diventati un'altra volta un luogo di grande attrazione, cioè le persone stanno decidendo anche di trasferirsi, ma anche perché stanno cambiando le tecnologie. Allora se noi immaginiamo all'intelligenza artificiale, all'IoT, alla possibilità che si possa lavorare sempre più da remoto, che ci sia anche un mondo molto più creativo e interconnesso. Non è importante che io stia a Manhattan, a Roma o ad Aliano. L'importante è che ci sia la possibilità di avere le tecnostrutture che permettono di poter stare in quei luoghi e poter lavorare. Adesso ci spostiamo a Matera sul set del film Pins and Needles, perché l'ordinanza della polizia locale e anche alcune disposizioni del set stanno creando dei disagi ai cittadini che hanno fatto delle segnalazioni e intanto la discussione arriva in Consiglio Comunale. Le riprese del film Pins and Needles a Matera stanno creando non pochi disagi ai residenti degli antichi rioni Sassi. Cittadini e attività commerciali già da alcuni giorni stanno lamentando la difficoltà a fare i conti con divieti di sosta e transito nelle aree attigue al set cinematografico. Domenica mattina la circolazione, in alcuni tratti, come si evince dalle immagini, risultava rallentata con automobili e autobus a passo duomo. Disagi amplificati anche dal maltempo delle scorse ore che ha reso impraticabile via Madonna delle Virtù, ammassando in alcuni tratti la sabbia versata nei giorni scorsi per esigenze legate alle riprese del film, con la conseguente formazione di dossi e buche. Questa mattina, lo vediamo ancora dalle immagini, il percorso è stato parzialmente ripulito e ripristinato per consentire nuovamente la corretta circolazione dei mezzi. Una situazione che per i residenti merita comunque l'attenzione immediata del comune. Sono state infatti le consigliere comunali Scarciolla e Tosti a raccogliere le segnalazioni dei cittadini auspicando una correzione dell'ordinanza in questione, portando il dibattito in consiglio comunale. Questo pomeriggio la massima assise cittadina discuterà la proposta di revisione dell'ordinanza della polizia locale numero 470 dell'8 novembre, avente ad oggetto proprio alla disciplina della circolazione e sosta veicolare in alcune vie del centro abitato, in occasione delle riprese cinematografiche, dal periodo che va dal 12 novembre fino all'11 febbraio 2023. La discussione, già tra i punti all'ordine del giorno nella seduta del 25 novembre scorso, si terrà in seconda convocazione nella giornata odierna, un'attesa che ha di fatto impedito l'adozione di misure risolutive immediate. E intanto il sindaco di Bari, Antonio De Caro, tanti giovani rappresentanti del comitato 28 novembre e la sorella Porzia di Benedetto Petrone hanno ricordato il militante comunista a 45 anni dalla sua uccisione. Benedetto Petrone era un militante comunista ed aveva 18 anni quando il 28 novembre 1977 a Bari fu ucciso da una squadraccia fascista. Era con alcuni compagni in piazza Massari quando da un branco di circa 40 neofascisti in cinque si scagliarono contro di loro. Alcuni scapparono, Petrone, avendo problemi di deambulazione, restò indietro e fu raggiunto dagli aggressori. Fu accoltellato mortalmente all'addome. A 45 anni dall'assassinio, il comune di Bari ha ricordato Benny Petrone con la deposizione di una corona di fiori nella via a lui dedicata e un mazzo di fiori nei pressi della lapide commemorativa in piazza della Libertà dove avvenne il delitto. Proprio nei giorni scorsi la procura di Bari ha chiesto l'archiviazione per prescrizione del processo che era stato riaperto nel 2017. Dopo 45 anni che serve? Ormai loro hanno vissuto e Benedetto sta sotto la terra, come dicevamo a che mi serve più? Non ci darà né Benedetto, ciò che abbiamo sofferto, non è che ci vengono indietro. Sto qua, sto qua. Ah, Franco. Capito che voglio dire? Vedi lui? Lui per salvare Benny è stato l'unico che si è girato indietro, non vedendo Benedetto, si è dato indietro e io lo amo peggio di un figlio perché è stato l'unico che non vedendo Benedetto si è tirato indietro per salvarlo e ha avuto lui una cartellata pure. Si poteva benissimo in qualche modo evitare con il giusto intervento delle forze di polizia che allora non erano democratiche. Abbiamo fatto richiesta di archiviazione perché riteniamo ovviamente che il reato è prescritto e che comunque i fatti, così come sono stati ricostruiti precedentemente, vanno riformulati e rivisti. Anche alla luce di questa inchiesta possiamo affermare con assoluta convinzione che Benedetto Petrone, come c'è scritto su quella targa, è comunque un martire del fascismo. Invece ieri nella città dei Sassi il Prospettive Music Festival ha voluto omaggiare Astor Piazzolla. Omaggio ad Astor Piazzolla del Prospettive Music Festival con Due Tango 4-5 ieri al Museo Ridola di Matera con il live del quintetto Due Tango composto da Filippo Arlia al pianoforte, Cesare Chiacchiaretta al Bandoneon, Giovanni Zonno al violino Enrico Corapi al contrabbasso e Salvatore Russo alla chitarra elettrica. La stagione di concerti dell'AMS ha offerto al pubblico un nuovo appuntamento di rilievo. Due Tango 4-5 è un gruppo che ormai da anni si dedica alla ricerca, alla promozione del repertorio di Astor Piazzolla e suona il repertorio con la formazione originale del grande maestro di Buenos Aires, cioè con pianoforte, bandoneon, violino, contrabbasso e chitarra elettrica. Questo tipo di musica ha bisogno appunto di un pubblico caloroso come è stato quello di Matera, ha bisogno anche dell'entusiasmo che è la musica argentina, musica spagnola, molto vicina a quella nostra italiana, quindi siamo molto felici di essere stati qua a Matera. Queste associazioni spaziano anche di genere, spaziano dalla sinfonica all'opera, recital, jazz, tango come vediamo anche stasera. Il Comune di Matera supporta, devo dire con entusiasmo, questo genere di iniziative che vanno avanti ormai dall'estate. Felicissimi ovviamente dell'esito del concerto di questa sera, le aspettative erano tante dopo il meraviglioso concerto l'anno scorso in formazione di duo, pianoforte e bandoneon, quest'anno due tango for five e la da noi la spinta, la sicurezza, la soddisfazione di offrire un programma, un cartellone che è iniziato nello scorso marzo e terminerà a fine anno, vario, completo, con ricchezza e varietà di programmi, di formazioni, con un mix, noi diciamo efficace, fra artisti locali, cui offriamo una ribalta, artisti di livello nazionale e internazionale e inoltre la ribalta che offriamo a giovanissimi talenti, vincitori dei nostri concorsi. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.